Io devo dire una cosa subito. Il ragazzo Federico l'ho conosciuto quest'inverno in un locale. Abbiamo parlato un po'. Ti piaceva? Se lo ricorda sì. Abbiamo parlato un po'. Bel ragazzo. Tieni, dai un microfono a Federico per favore. Sì, è quel ragazzo che ti avevano detto. Ah, il d'angelo. Sono io Claudio, sono io. Cioè vi siete conosciuti in un locale? Io posso presentarmi? Certo. Mi chiamo Federico, ho 29 anni, vengo dalla provincia di Verona e di giorno sono un magazziniere mentre la sera lavoro nei locali all'ingresso. In uno di questi locali è capitato di vedere Sonia, abbiamo parlato in compagnia per cui non c'è stato niente di grave, niente di così scandaloso. È tutto qua. Mi è piaciuta molto. C'è stata, almeno personalmente, una bella intesa. Ed eccomi qua. Ti piaceva? Molto. No, a lui io lo capisco. Mi piaceva. Non posso dire mi piace, nel senso non lo conosco. Però esteticamente è un bellissimo ragazzo. Esteticamente, di no, parlo di quello. Quindi lui rimane? Sì, vai. Ok. Lascia il microfono a Giuliano. Io sono Giuliano. Là, là. Ho 32 anni, vengo dalla provincia di Roma. Che c'è Jack? Mi ha colpito il mio. Ma Claudio, scusami Giuliano. Ma che te frega, scusa. Che te frega adesso. Ma sta pronto, Ginevra, perché non gli dici qualcosa? Non, ma...